Riqualificare l'area nei pressi della chiesa di Santa Maria del Casale a pochi passi dall'aeroporto del Salento. E questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle Brinisino, con una mozione presentata in Consiglio Comunale per discutere sulla possibilità di utilizzare fondi in vista del prossimo G7. Un'occasione per ridare lustro a un'area importante anche dal punto di vista storico e culturale, non solo per il territorio brinisino, ma per tutta la Puglia. Qui noi brindisini ormai siamo quasi espropriati, è difficile persino accedervi. Ci sono dei ruderi nell'area militare che vanno abbattuti, che vanno veramente messi a raso perché con creazione di un prato c'è tutta questa zona qui, c'è questo parcheggio che non è che si chiede lo spostamento totale del parcheggio, ma magari un avanzamento in un'altra zona. Lo dico ancora una volta, io non sono un tecnico, io sono un avvocato e un politico. Amo la mia città, amo questa chiesa che è una delle più importanti di Puglia. Dico approfittiamo del G7, dei fondi del G7, chiediamo qualcosa che resti a brindisi. Non è possibile arrivare con le macchine. Oggi no, ma io che a volte faccio delle passeggiate apposta per venire a vedere, trovo le auto posteggiate accanto al muro della chiesa e questo ormai non è più tollerabile. L'area deve essere assolutamente riqualificata perché il valore del monumento è in dubbio, è un monumento nazionale, è un esempio di architettura riportato in tutti i manuali di storia dell'arte. Quindi non credo che si possa ancora accettare questa condizione.